Il canyon di Fjadrarglufur in Islanda è una meraviglia naturale mozzafiato che attira una notevole attenzione da parte di turisti e viaggiatori. Situato nella parte sudorientale dell'Islanda, questo splendido canyon offre ai visitatori un'esperienza unica. Il canyon di Fjadrarglufur è caratterizzato da ripide scogliere, una vegetazione lussureggiante e un fiume tortuoso che scorre nelle sue profondità. Si estende per circa 2 chilometri e raggiunge profondità fino a 100 metri, il che lo rende uno spettacolo impressionante. Il canyon sta guadagnando popolarità tra i turisti per i suoi paesaggi spettacolari e per le opportunità di praticare attività all'aperto come l'escursionismo e la fotografia. I visitatori possono esplorare i sentieri del canyon, che offrono viste panoramiche dell'area circostante e permettono di immergersi nella bellezza naturale dell'Islanda. Chi ha avuto l'opportunità di visitare il canyon di Fjadrarglufur lo descrive spesso come uno spettacolo davvero ipnotico. La combinazione di imponenti scogliere, vegetazione colorata e un fiume tranquillo crea un'atmosfera serena che lascia un'impressione duratura a tutti coloro che lo visitano.